La sua felicità è la mia spinta quotidiana. Per lui sacrificherei tutto. La cosa più divertente è quando cerco di insegnargli le cose, ma in realtà sono io che imparo ogni giorno. Grazie a lui ho imparato a prendermi cura di me stesso, perché ogni momento che trascorriamo insieme è speciale. Ma soprattutto ho imparato ad affrontare con serenità gli anni che passano e il mondo fa meno paura se hai qualcuno accanto.